Non solo le violazioni alla norma ambientale e all'inquinamento in una zona di circa 75 km quadrati, quindi molto molto estesa, ma anche la banca rotta a fraudolenta. La procura ha dato un'accelerata alle inchieste bis e ter sumitini e le ha chiuse entrambe contestando reati pesantissimi a otto manager oltre che alla società stessa. I pubblici ministeri Blattner e Demunar hanno firmato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari che precede l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Il procedimento potrebbe poi confluire in quello, già in udienza preliminare, che vede 13 persone accusate di disastro innominato e avvelenamento delle acque, 226 le parti civili costituite, un quarto fascicolo è ancora in corso. L'avviso è stato notificato ai vertici Dimitini e Icig, la società tedesco lussemburghese che controllava la società di Trissino e poiché i fatti contestati riguardano il periodo tra il 2012 e il novembre 2018, data del fallimento, è esclusa Mitsubishi, responsabile civile invece nel primo processo, quello per l'inquinamento da Fassa. Da apprezzare particolarmente, affermano in un comunicato le quattro società idriche coinvolte come parti civili con i loro avvocati, è stata la rapidità con la quale i magistrati hanno operato pur in presenza di difficoltà operative oggettive causate dall'emergenza Covid. Perché è importante questa inchiesta? Prosegue il comunicato. Perché confermerebbe quanto sempre sostenuto dalle società Via Acqua, Acque Venete, Acque Veronesi, Acque del Chiampo, ossia che le condotte di inquinamento ambientale si sono protratte oltre al 2013, data di riferimento della chiusura del primo filone di inchiesta e quindi concretizzando anche fattispecie criminose previste dalla legge sugli acoreati. È un passo importante nell'accertamento di responsabilità gravi sul piano ambientale e sanitario che hanno causato ingenti danni cui, come è noto, proprio le società idriche hanno tempestivamente posto rimedio con misure eccezionali, urgenti ed estremamente onerose.